L'assalto alle piste da sci della Maielletta nel fine settimana manda in tilt la viabilità con oltre tre chilometri di auto in coda per raggiungere Passo Lanciano. Obbligato a chiudere la strada che porta alla montagna per ragioni di sicurezza, così come stabilito dalla Questura, il sindaco di Letto Manopello, Simone D'Alfonso, si sfoga sui social, attaccando la regione e denunciando l'immobilismo con cui la giunta capitanata da Marsilio lascia che ogni inverno un intero comprensorio subisca gli stessi disagi, con conseguenti danni al comparto del turismo e a quello del commercio, considerati tanti avventori che, dopo ore di fila, hanno deciso di fare dietro front. Eppure, denuncia il sindaco D'Alfonso, l'attuale governo regionale è arreditato dal precedente di centrosinistra 22 milioni di euro del masterplan per la realizzazione di parcheggi di scambio e servizi di bus navetta, capaci di snellire il traffico e consentire ai tanti appassionati di montagna, che ogni anno arrivano anche da fuori regione, di raggiungere senza problemi le piste di Passo Lanciano. Alle accuse, l'assessore regionale al turismo, Daniele Damario, risponde annunciando che già sono state individuate tre aree nei tre comuni di Roccamorice, Letto Manopello e Pretoro per la realizzazione di parcheggi di scambio. Ultimate le pratiche burocratiche, a breve partiranno anche i lavori. Innanzitutto siamo felici che tanta gente vuole raggiungere Passo Lanciano per andare a sciare e quindi sicuramente è anche frutto di una grossa promozione che stiamo facendo per rilanciare il turismo in Abruzzo. Ma pare strano che le critiche maggiori vengano dal sindaco di Letto Manopello. Vorrei ricordargli che nel masterplan originario non era previsto un parcheggio di scambio a Letto Manopello, anzi era previsto solo su versante Chietino e cioè a Pretoro. Quindi di concerto con il Parco Nazionale abbiamo deciso di realizzare tre parcheggi, uno a Letto Manopello, uno a Pretoro e uno a Roccamorice, proprio per intercettare tutte le persone che salgono. È evidente che, parlo proprio del Comune di Letto Manopello, avere prima un'area bocciata per problemi ideologici, poi una seconda area bocciata dalla sovrintendenza e bene abbiendali, finalmente ha individuato una terza area che va bene per tutti e quindi diventa anche difficile progettare, mentre le altre due progettazioni sono pronte, quelle di Letto Manopello va a rilento proprio perché abbiamo individuato ben tre aree. Ora sembra che abbiamo l'area definitiva, aspettiamo che il Comune faccia la variante al piano regolatore per poter fare il progetto definitivo su quell'area e risolvere il problema che poi comunque continuerà perché poi le persone una volta che si fermeranno a Letto Manopello, a Pretoro o a Roccamorice avremo il problema di portarli sopra in maniera rapida e veloce, ma anche a questo stiamo pensando. Quindi di che tempi si parla? I primi lavori sullo stazzo a Roccamorice inizieranno prima dell'estate sicuramente, per quanto riguarda i parcheggi dovremmo fare il progetto definitivo una volta individuata finalmente la terza area a Letto Manopello e quindi ritengo che compatibilmente per la prossima stagione sicuramente potremmo essere pronti con i parcheggi e lo stazzo sopra al Comune di Roccamorice per poi andare all'aggiudicazione del progetto definitivo dell'impianto di risalita e dell'impianto di innevamento.